Siamo qui in collegamento, torneo H24 che ora vede affrontarsi il last minute contro il KTM Napoli Ora vediamo Martone in possesso di palla, servire Ciotola, allarga il pallone per il proprio compagno Ancora al centro per Ciotola, Luca Lapia interviene e fa solo la sfera Ricordiamo il risultato di 0-0 tra le compagini in campo Luca Lapia, ancora le giocate di Lapia, in possesso di palla Punta Martone, la palla ora al centro per Mauriello, si chiude la retroguardia KTM ora vediamo Palmieri per Last Minutes che prova la conclusione e la parata dell'estremo difensore Martone, in possesso di palla, la palla per Ruggero, Ciotola, ancora Ciotola La palla a servire Ruggero, Ruggero il dribbling, ancora il tiro, alto sopra la traversa Palmieri in possesso di palla Ruggero interviene su di lui e fa solo la sfera D'Ambrosio per Ruggero Ruggero la palla per Ciotola che però impara verso la sfera si chiude la retroguardia Last Minutes Ancora Lapia, pallone intercettato ancora da Martone che la mette in Fallo laterale Ancora Luca Lapia, il possesso di palla Ancora le giocate, la palla che termina in calcio d'angolo Last Minutes Luca Lapia sulla bandierina La palla forte al centro, rimessa dal fondo Ancora KTM, il possesso di palla con Ruggero Ruggero ancora a lottare in mezzo a tre Esce veramente in bello stile, duetta con Ciotola Ancora l'intervento a chiudere Poi Ciotola col mancino, ha provato a calciare Pallone deviato, rimessa laterale KTM Napoli Ancora KTM che prova la giocata col tacco, il pallone al centro Lapia, il controllo Prova a partire, palla al piede, ora Luca Lapia Prova la giocata, perde il possesso della sfera Il pallone filtrante al centro, preda dell'estremo difensore Maietta Ancora Last Minutes La palla lunga, Martone interviene Ancora Mauriello che prova ad arrivare sulla sfera Calcio di punizione KTM Napoli ancora con Ruggero Ora palla per Ciotola, Ciotola Mette a sedere Maietta La palla scaricata all'indietro per Ruggero Tiro contrastato, ma è rimessa al fondo E con questo possiamo chiudere il collegamento Di 0-0 tra Last Minutes e KTM Napoli Un saluto da Boateng, ciao ragazzi